...autorizzato per sapere cosa ne pensa. Siamo onorevole Saloni, onorevole Yuri Becchis, Andrea Saloni, Facoltà. Grazie al Commissario per essere qui a rispondere alle nostre domande. Volevo sottoporle una questione di sicurezza alimentare dei neonati. Recentemente sono state rilevate importanti presenze di diossina nel latte materno. C'è un allarme abbastanza elevato da parte dei cittadini. Ci sono anche associazioni di medici che si occupano di questo. Recentemente a Roma hanno tenuto una conferenza e quindi c'è il problema che i nostri bambini appena venuti al mondo cominciano a nutrirsi di un cibo contaminato da diossina. Questo è certificato da certificati di analisi e in particolare pare che ciò accada in aree dove ci sono impianti tipo inceneritori, cementifici, dove naturalmente questi impianti funzionano a norma, rispettano le leggi. E qui si pone il problema dell'effetto cocktail relativo a tutti questi impatti, a tutti questi inquinamenti che ci sono nell'ambiente. Allora le volevo chiedere che cosa, se siete a corrente di queste situazioni, che cosa ne pensa lei di questo problema e che cosa potete fare in merito per risolvere questa questione che non è da poco. Grazie.